Michele Emiliano comincia a stilare l'agenda di governo. Dopo il trionfo alle urne, il neo governatore vuole subito rispettare gli impegni presi in campagna elettorale, cercando di coniugare lavoro, salute, ambiente e sviluppo. Tra le emergenze è il caso Ilva, ormai un emblema pugliese. Bisogna considerare la salute dei cittadini, ma anche il futuro della città di Taranto, volano per la ripresa economica della nostra regione. Emiliano ha espresso come ultima ipotesi una possibile chiusura del siderurgico se le emissioni dovessero continuare a inquinare la città e se non si procederà al più presto all'opera di ambientalizzazione. Tra le priorità del Presidente della Regione è il sistema portuale di Taranto e Brindisi, spazio per container e traghetti. E poi c'è la sanità, altro nodo caldo e problema principe per i pugliesi. Medicina territoriale, liste d'attesa, ticket, contenimento della spesa e qualità dei servizi. Il piano di riordino ospedaliero, approvato dalla precedente giunta guidata da Vendola, potrebbe essere rimesso in discussione perché occorrerà verificare se quanto previsto è in linea con i nuovi paletti fissati dal decreto legge sugli standard ospedalieri. E poi bisognerà pensare all'apertura dei cosiddetti ospedali di comunità con servizi di assistenza e cura. Nel caso dell'emergenza a Xilella sarà varata una task force che abbraccerà le strutture dirigenziali regionali e i massimi esperti scientifici della materia, anche per valutare misure e impatto del piano Silletti. Emiliano studia interventi immediati in attesa del nuovo decreto. Altro dossier sulla scrivania di Emiliano è quello legato alle politiche energetiche tra gas, carbone e petrolio, ma anche al settore aerospaziale, a caccia di rinforzi per nuovi posti e investimenti. E poi ci sono le grandi opere pubbliche da sbloccare, in primis la 275 Maglieleuca, la regionale 8 nei tratti Lecce-Melendugno e la Bradanico-Salentina Bari-Taranto. E infine il turismo, settore in crescita ma che ha bisogno di nuovi investimenti e politiche organiche.